Un controllo stringente sulle aziende sanitarie partendo non dal sentito dire ma dal toccare con mano. L'era Massimo Scura vuole connotarsi nel segno della verifica sul campo e il tour di ricognizione comincia oggi con prima tappa all'azienda ospedaliera di Reggio Calabria. L'ingegnere Massimo Scura, nominato dal governo Matteo Renzi per monitorare l'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario in Calabria, il commissario vuole farlo sul serio e stamattina sarà negli uffici dell'azienda ospedaliera Regina dove cercherà di capire il sistema amministrativo contabile vigente che ha dato luogo a situazioni problematiche. Nate anche dal fatto che questa azienda ospedaliera che nasce dalla rionificazione delle vecchie asle di Reggio, Palmi e Locri ancora non ha completato il percorso di integrazione e ciò crea difficoltà a livello contabile. Una constatazione, quella appena esposta, su cui fanno leva le perplessità di Massimo Scura riguardo alla mega azienda regionale unificata Asur che la Giunta regionale vuole realizzare e sulla cui istituzione ha emanato una delibera che sarà trasmessa al Consiglio. Se alcune aziende ospedaliere ancora non hanno ultimato l'accorpamento delle loro strutture, come sarà possibile realizzare in tempi non biblici la macro azienda regionale? E' questo un po' il punto di domanda. Tra l'altro sia Scura sia la CGL, ne ha parlato ieri Ivan Potenti a Catanzaro, ritengono che una legge regionale in tal senso rischi di essere impugnata dal governo davanti alla Corte Costituzionale. Del resto, non risulta che il tavolo ex Massicci, ora tavolo a duce, abbia colto con favore la notizia dell'iniziativa avviata dalla Regione. Intanto, come preannunciato nei giorni scorsi, Scura ha sollevato la questione delle nomine dei direttori sanitari e amministrativi, trasmettendo ai commissari straordinari delle aziende ospedali ed ospedali una nota con precise indicazioni operative. Scura cita la legge regionale che riconosce anche ai commissari straordinari delle aziende lo stesso potere dei direttori generali riguardo alla nomina dei direttori amministrativi e sanitari aziendali. Ciò premesso, scrive ancora Scura, deve evidenziarsi che il costo per il conferimento degli incarichi in questione incide comunque nel compito dei limiti di spesa.